e ciao a tutti benvenuti o bentornati sul canale io sono stefania ho la veffers smell qui parliamo di profumi e se siete appena passati di qui per caso benvenuti allora io ho visto che moltissime mie colleghe hanno già fatto il video per halloween e infatti mi sono vestita a tema come vedete sono tutta nera lugubre e ho il cappello da strega no ragazzi cioè io voglio partecipare a questa cosa nel senso che voglio fare anch'io il mio video di halloween però mi sono resa conto che nella mia collezione effettivamente non ho profumi che secondo me possono incarnare bene lo spirito della festività non lo so io se penso a un profumo dedicato ad halloween penso automaticamente a un profumo incensato ad un profumo ricchissimo di paciuli penso a qualcosa proprio di non lo so umido di terroso l'idea proprio dell'incenso della messa della chiesa di qualcosa di oscuro e io effettivamente che amo caramelline zuccherini crème brulee pistacchietti insomma tutto quello che è dolce le roselline non ho profumi che rispecchino appieno questa festività però ho tanti profumi che hanno il pack nero dunque profumi neri questo è il motivo del titolo ecco tutto qui se non lo fate già io vi invito a seguirmi e seguitemi anche in instagram ragazzi per favore perché io vedo che non tutti mi seguono lì seguitemi iscrivetevi io sono attivissima vi do news in anteprima detto questo dunque profumi neri partiamo con il mio primo profumo nero di halloween non halloween che è axidona la vaniglia in questo caso io vi sto parlando della madeleine de brust un profumo ragazzi che comunque ci sta nel periodo perché è un profumo molto ricco ha note al suo interno di pesca cocca cocco albicocca poi abbiamo burro biscotto e vaniglia vaniglia assolutamente atipica vaniglia iper mega originale particolarissima che ha un sentore fruttato che però viene fuori col tempo perché non lo sentite subito adesso l'ho spruzzato non lo sentite immediatamente lo sentite in asciugatura perché così di primo acchito questo profumo è un profumo biscottato è un biscotto secondo me al popcorn proprio sentite qualche cosa che richiama il profumo dei popcorn ma non popcorn caramellati non popcorn salati bensì popcorn caramellati c'è proprio questa sfumatura di caramello bruciacchiato bellissima la nota poi di albicocca perché mi è venuto a mente poi a forza di portare i profumi un po alla volta vi vengono a mente anche quelle che possono essere delle sfumature che li descrivono meglio sapete che ci sono le sfogliatine che hanno le righine di è tipo marmellata di solito è albicocca quella che è lì ecco mi fa venire in mente quello c'è la glassa sopra che c'è delle sfogliatine con quel filino di albicocca il profumo è proprio quello è un profumo gustoso bellissimo estremamente vanigliato con una potenza assoluta contenuto in questo bellissimo pack nero è un altro veramente sì un profumo adatto alla stagione invernale in una maniera assurda perché è proprio un profumo che riempie le stanze per chi ama proprio quel tipo di profumazione burroso denso caldo c'è anche un bel lato lattonico è un gourmand potente e bellissimo e nero primo profumo del giorno altro profumo poi ne ho anche uno insanguinato capirete perché altro profumo del giorno del quale purtroppo si parla poco e io amo particolarmente questo brand è made sto parlando di zar adesso è uscito anche con il nuovo profumo che ho potuto sentire però questo rimane in assoluto il mio preferito ragazzi questo mamma mia questa è una botta di vita questo profumo a suo interno vi leggo le note perché ovviamente non le ricordo a memoria in testa bergamotto zafferano e rosa una bomba ragazzi nel cuore abbiamo rosa ambra vaniglia fava tonka wood legno di cedro poi in base abbiamo ambra vaniglia e musk assolutamente intenso è un profumo anche questo che ha uno spirito questo sia uno spirito veramente che vi fa risorgere se siete un pochino giù avete bisogno di quella che è letteralmente una botta di vita mettete vizar tra l'altro mi sono dimenticata di dirvi che questo in etrusco significa 10 questo è il primo profumo della numbers collection di made parfum questo è letteralmente un'esplosione di potenza un profumo molto intenso un profumo estremamente vivo è un profumo nel quale appunto possiamo secondo me riscoprirci più come posso dire vitali e soprattutto nei mesi freddi quando abbiamo bisogno di una sferzata è un profumo che ha un lato speziato piuttosto presente però è mescolato a questo bellissimo lato vanigliato un pochino più dolce a me ha ricordato due profumi e ha ricordato un mix fra arabian stonka e annone come se questi due profumi insieme avessero avuto un figlio e fosse nato lui è un profumo in cui c'è una forte percentuale molto molto percettibile soprattutto per chi ha il naso abbastanza allenato di zafferano dunque deve piacervi poi questo zafferano quando si mescola con la fava tonka ragazzi da vita questo balletto che è veramente inebriante anche questo è un profumo che ha una potenza assoluta è uno di quei profumi da scia per chi ama appunto questo genere di fragranza e anche lui ha delle vibes caramellate dunque è tutto veramente molto ben bilanciato e anche lui perfetto per il periodo questo è un profumo assassino perché c'è un pugnale sulla copertina è lui sto parlando di ishk al shuyu cold di lattafa allora ecco forse questo si potrebbe sposarsi effettivamente bene con la festività abbiamo anche il kanjar qui che in arabo è proprio letteralmente pugnale un profumo che ha in apertura note di caramello e di zafferano nel cuore della fragranza abbiamo pelle scamosciata cuoio e fava tonka nella base invece della fragranza abbiamo vaniglia ambra e moschio qui allora è prima cosa che mi sento di dire è no blind by perché è un profumo particolarissimo e chi ce l'ha di voi penso possa darmi ragione la prima cosa che io associo alla spruzzata di questo profumo è l'odore letteralmente l'odore delle gomme bruciate sull'asfalto plastica e non sto scherzando non è plastica normale è plastica dolce è plastica caramellata è plastica legata ad una nota di pelle scamosciata fortissima questa è la prima cosa che sentite dunque non è un profumo per cuori deboli perché è un profumo di quelli penetranti particolari assolutamente diversi da tutto ciò che trovate in commercio eccetto cosa questo è un profumo che è similissimo ad altri due fragranze anche qui se baby cat di Yves Saint Laurent e Rosendo Matteo numero 5 avessero un figlio nascerebbe lui premetto che questi tre profumi per me sono molto simili fra di loro e lui è letteralmente similissimo agli altri due che vi ho appena elencato perciò se non amate fragranze decise forti con toni fortemente cuoiati di plastica di caramello e che diventano vanigliati solo in fase di asciugatura non avvicinatevi a lui se invece amate questo tipo di profumazione questo è il profumo che fa per voi perché è qualcosa di veramente iper mega intenso è un profumo super performante è un profumo ecco lui si ha una parte oscura molto molto oscura questa è una vaniglia questa potresti chiamarla vaniglia nera è una vaniglia nera ma non solo nera perché anche una diciamo anche un lato più chiara un lato più dolce è un lato più caramellato però sempre comunque molto profondo diciamo che è caldo e freddo al tempo stesso profumo per il quale continua a dirvelo poi non dite che non vi ho avvisato sconsiglio vivamente il blind by questo qui c'è se proprio volete farvi un'idea avete qualche store vicino a casa che ne so vivete vicino a un posto dove vendono profumi di nicchia andatevi a provare un baby cat se vi capita o un rosendo matteo numero 5 perché questo è veramente molto molto simile anche lui nel pack nero ma siccome lui aveva un pugnale adesso diventa il true crime dei profumi e ha deciso di fare del male a una fragranza ne ha colpito uno a morte l'ha fatto sanguinare ed è lui questo non è solo nero ma questo vedete sta sanguinando perché Ishka Shuyuk l'ha colpito facciamo anche il true crime dei profumi potrebbe essere un'idea mi piace il true crime ragazzi io sono ossessionata dal true crime e ho scoperto che che chi guarda true crime effettivamente è potenzialmente pericoloso sappiate che guarda true crime torniamo al video sto parlando di tapirouge di supremacy supremacy tapirouge di afnanna si parla pochissimo di questo profumo e questo profumo è un'opera d'arte anzi questo è quello che andrò a spruzzarmi oggi cioè questo profumo ragazzi è per me un profumo di nicchia cioè un profumo arabo ma è letteralmente come un profumo di nicchia qui abbiamo in apertura note di ciliegio abbiamo poi pesca bianca e lici nel cuore troviamo prugna rosa mahoniel e gelsomino nella base abbiamo chiodi di garofano vetiver e peonia fragranza iper mega sexy fragranza super super accattivante questa è una ciliegia che ha tutta la sua storia è una ciliegia al limite del carnale una delle ciliegie più sensuali che io ho in collezione se pensate alla ciliegina che magari c'è in determinati profumi tipo quello di elan che è tipo quella dello sciroppo fabbri ecco questa se ne mangia 400 è un profumo assolutamente divino in cui questa bellissima nota di ciliegia si sposa con quelle che sono le note speziate e io sento anche tantissimo il profumo della rosa questo profumo in una determinata diciamo fase della sua evoluzione a me ha ricordato proprio perché sento tanto la rosa il profumo della rosa che io sento in guidance di amouage un profumo veramente quasi animalico con questo tocco speziato che è sempre comunque presente e poi c'è anche un bel profumo fruttato una bella pesca però su tutto io sento ciliegia rosa e spezia probabilmente sono i chiodi di garofano quelli che mi danno questa diciamo sensazione un attimino più quasi animalica questa sensazione quasi carnale un profumo proprio da tappeto rosso un profumo ipnotico un profumo per farsi distinguere un profumo per non passare inosservati e inosservate è un profumo proprio che vibra vi vibra attorno è un profumo che vi fa risplendere un profumo ragazzi da dieci e lode io lo amo insanguinato ok questi sono i miei profumi di halloween non halloween soprattutto ragazzi ho fatto questo video per tenervi compagnia perché perché mi piace parlarvi perché mi piace parlare di profumo e perché appunto sì insomma mi piace condividere come sempre io vi aspetto nei commenti se volete sostenermi e siete nuovi iscrivetevi al canale lasciatemi un codicino fate quello che volete ragazzi io sono qui e sono qui per voi ciao al presto